bella a tutti fourniters benvenuti e bentrovati sulle on tube in questo video andiamo a vedere un piccolo trick su come fare questo incarico qua sali sulle pedane di propulsione sul monte trash o comunque sali sulle pedane di propulsione vedete siamo a 35 andiamo a far partire la nostra gara lasciamo il video integrale in modo da vedere che non ci sono tagli e ora adesso aspettiamo e la partenza della gara intanto voi se volete potete andare avanti intanto però ragazzi mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale questo qui in tre quattro gare si dovrebbe completare e forse anche prima dipende insomma quanto siamo veloci a fare questo trucco abbastanza semplice i tasti che ci servono nel nostro controllo sono ZR e ZL adesso appena parte la gara vi facciamo vedere come farli io adesso ne ho fatti 33 in una gara e vediamo se possono riuscire a far di più la gara ovviamente durerà un paio di minuti quindi qui tutto video integrale ragazzi il trucco per semplice lo vedete noi vi faremo vedere alla fine che che funziona non sto a velocizzare il video ok ecco la partenza non ci interessa ovviamente della gara a velocizzare il video ok ecco la partenza non ci interessa ovviamente non ci interessa ovviamente nel caso dei campi e vi faccio il pubblico no potrzebino non ci interessa evidiamo ci interessa so LO Grazie a tutti. 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 Qui ovviamente ne ho già fatte un po' di rampe, di pedane. Eccoci qua, andiamo qua. Ok, qui sotto. Sì, esatto. Vediamo se riusciamo ad attivarne due. Sì, ne attiviamo due in questo modo. Oppure quella è una unica. Allora, qui siamo a tre. Dobbiamo sbrigarci. Ecco qua, l'abbiamo completato. Eccolo qua, l'abbiamo completato, quindi le conta doppie. In questo modo ve ne conta due, invece che una. Quindi se trovate una pedana doppia. Quindi se trovate una pedana doppia, addirittura questa potrebbe quasi essere tripla. Però in questo modo passiamo sopra due pedane, quindi... Ce le conta doppie, ho fatto il conto. E ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti! Ecco qua che abbiamo completato l'incarico. Vedete, ora siamo alla fase 4. Vola per la distanza totale di Racing. Totale in Racing in classifica.